La tromba d'aria che ha attraversato il nord-ovest della Sardegna ha scaricato in poche ore fino a 80 mm di pioggia, colpendo in particolare il Sassarese, la Romangia e l'Anglona, ma le bombe d'acqua e di grandine e il vento fortissimo hanno recato danni un po' in tutta l'isola. Le strade si sono trasformate in fiumi di fango e l'impeto dell'acqua ha sradicato alberi di velto protezione in cemento, fatto crollare muri e rosoviotoli di campagna. Nella bassa valle del Coginas la violenza del vento ha causato danni molto gravi alle serre e nelle coltivazioni. Le devastazioni dei campi, colpite da violente grandinati, hanno spinto la Coldiretti a chiedere lo stato di calamità naturale. Molti anche i disagi nei trasporti per via degli alberi caduti, dei detriti e degli accumuli di fango che hanno reso inagibili le strade. Sulla tratta ferroviaria Algero Sassari e all'altezza di Olmedo anche i binari hanno subito danni per le erosioni causate dall'acqua e l'Arsta ha bloccato il treno, supplendo da oggi con gli autobus sostitutivi. Le immagini che vedete si riferiscono alla strada per Platamona, dove il tratto di via De Martini alla rotatoria per Sorso Porto Torres è stata chiusa per il fango e i detriti portati dall'acqua. La linea MP della TP ha dovuto fare capolinea alla fermata di via De Martini, tagliando i collegamenti per i residenti del litorale. Squadre di operai comunali e ruspedagieri sono all'opera in numerosi punti per spalare il fango da strade e incroci. Si attendono nuovi allerta meteo.